al nord al centro e sulla sardegna sereno poco nuvoloso con qualche addensamento sul versante orientale sulle rimanenti regioni meridionali nuvolosità irregolare in graduale attenuazione con precipitazioni isolate anche temporalesche che localmente sulla puglia e sui rilievi appenninici saranno nevose poschie notturne e nel primo mattino con qualche banco di nebbia in val padana temperatura senza variazioni le minime in aumento le massime al nord e al centro venti su tutte le regioni intorno nord deboli a settentrione e lungo i versanti tirrenici deboli o moderati sulle altre regioni mari mossi o molto mossi l'adriatico centro meridionale e lo ionio poco mossi o mossi gli altri mari